ed ecco qua ragazzi che ho preso questo supporto da poter mettere il proiettore sopra come potete vedere voglio andare a mettere questo proiettore qui sopra e andare a mettere il proiettore a pellicola che è lì quello là questo qui sopra al mobile così da poter utilizzare entrambi senza spostare alcun mobile adesso vado a fare il cambiamento e ci vediamo tra poco e ciao a tutti ragazzi per questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo video dove ho preso questo supporto dove andrò a mettere qui sopra quella bacheca che ho qui con momentaneamente la locandina di spectre ovviamente vedrò dove poter posizionare momentaneamente questa locandina da qualche parte e vedremo un po' il da farsi ed ecco qui ragazzi che ho appoggiato momentaneamente qui la bacheca prima stava per terra e adesso l'ho messo su questa l'ho messo su questo supporto ed eccola qua ragazzi la bacheca con la locandina momentaneamente di spectre e niente ragazzi se ti piace commentate iscrivetevi al canale noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao 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 ciao